sempre per sempre e dove sei tornata in mente e solo a me e non ci segui ma trovi che sei adesso vorrei una spiegazione tua e dove sei sempre tu e non ci sei e dove vai io dirlo a me e solverei i tuoi problemi e mi ci dici da cos'è non sempre nella tua mente rimane niente e resto va a casa come sempre e dove si sente e tu sei un po' assente guarisci e tornati e non sei e dove vorrei stare qua in questa realtà ma perché e niente va bene niente se c'è gente da dire niente da faccio a dire e le pare parole e dove andare sempre per te e niente vorrei e stare così sempre con me e come sai stare e realizzare sogni possibili non va bene sempre e così dove che sei dove che vai dov'è che tornerai dove che sei sempre tu e tu a questa salita che non va bene che dura niente per sempre per niente e c'è come dire che tu non sei giusta non va bene adesso dico basta niente resta come sai come sai come sei come vorrei stare così questa realtà dimmela qui e dove che sei sempre con me e starei ad aspettar qualcosa che viene in mare una durata rimanere per me nobili senza reagire sai stare ma dove che andare ti do danni ciare Grazie a tutti.